BASTA METTI A FUOCO Ciao a tutti ragazzi e ragazze sono oggi Abbiamo avuto questo video su Final Fantasy 62 L'ultima volta ci siamo lasciati con l'essere arrivati, ritornati Anzi, a loro video di Zarkad è divenuto Tipo una sottospecie di parco divertimenti Che si è allestito, insomma L'ha trasformato in un negozio per vendere tesori Noi li abbiamo riproverato Per ovvie ragioni E abbiamo ancora il dilemma della scimmia da risolvere Ce l'avamo lasciati con il dover risolvere il dilemma della scimmia La parola d'ordine è mia e sci, cioè scimmia La parola d'ordine è scimmia Non capisco il nesso con le scimmie Non capisco cosa devo fare con sta scimmia innamorata Se parlo con questo Prugnanni è indolente C'è sempre questo prugnanni indolente Non so come si risolva Però mi sa che posso risolverla Uscendo da qua Probabilmente se esco succede qualcosa No, non succede niente Da niente, pensavo fosse entrata Non è che devo tipo Tutti questi soldi Sono tutti i forzei che hanno aperto I visitatori Attenzione, fate rubare i ghidi alle scimmie Posso andare di qua Oh, posso andare di qua Oh, posso andare di qua Oh, qui non c'è andato nessuno Eh, c'è pieno così di gente Autunnio È nervoso Autunnio Bellone Oh Orsandro Orsandro sta tramando qualcosa Mi ha rubato dei ghidi Lo sbaglio Soldiero detesta i turisti Oh Piccoliana Lo sguardo selvaggio Mi hanno rubato un ghidi Un ghidi mi rubano Comunque Oh, comunque sono soldi Ho ottenuto un elisir Minchia Vol buttalo via un elisir Una coda di fenice Buttala via la coda di fenice E nessuno ci viene qua dentro Solo noi durante la prima avventura Ci siamo venuti Basta No E tutti gli altri invocatori Che hanno sacrificato la loro vita Per cosa Per niente Per ripetere un ciclo Che solo noi siamo riusciti a fermare Grande idea di Tidus dell'Uno Oggetto panacea Posso entrare di qua? Vi permettete? Posso entrare anche qui? Posso entrare anche qui Ricordiamoci che stiamo cercando una sfera Due anni fa Gettammo qua la nostra fede Ok, se no si legge Si legge cazzo Le nostre false speranze È tutto pieno di scimmie Oh, guardate quella stanza Che Serve a un muro stellato Giorinna è assonnata Bianca lo sta per innamorarsi Oh, forse è questa Chi è? Sono di nuovo quelli Del clan di Leblanc Anna, qualcun'altro Ah, sappiamo la password Eh, potrei buonacciare C'è chi è? Le scimmie sposano Sei tu Isaru? È quella che mi sembrava più sensata È quella che mi sembrava più sensata Anche io ho passato a viaggiare con la speranza di venirci Lavorare qui in qualche modo Affarga quel desiderio Capisco Ma non si legge Perché c'è troppo luce Scusate per i quiz Prendete Per il disturbo Oh, la collezione Scusate per i quiz C'è potabile Scusate per i quiz Beh, pure Beh sì, l'interno non si può sbagliare il fattore Oh, battete la musica dei gabbiani Questa è la musica dei gabbiani Ciliegiana, guarda, lontano Si fa sopra di qua? Qui non c'è niente, c'è un buco Si fa sopra di qua? Oh, non ho mostro a posto Nel gioco, nel primo gioco Aspetta, Gladius, Spada Focum, ecco Vediamo un po' Spada Focum quanti danni fa Spada Focum fa danni di fuoco, immagino Vai Sì Pum Il problema invece è normale È normale, fa meno danni Vabbè Posso decidere, insomma, vai Comunque fa danni elementali Aspetta, di fuoco ovviamente Fa danni di fuoco Stavo dicendo, nel primo gioco Quando tu scendevi le scale Magicamente riapparivi all'inizio dell'aria Cioè, all'inizio dell'aria Cioè, uscivi dalle scale Che c'erano A sinistra All'inizio dell'aria sinistra Qui la magia invece è sparita Penso Per il fatto che Boh Non so bene per cosa Ma Dobbiamo arrivare alla fine di questo tutto il mondo Vabbè ragazzi Se continuano ad essersi solamente Elementi Tra poco metto una maga nera in squadra Ma per procedenza L'abilità guerri è maga bianca Vabbè Sisticavo dice Lo chiamano Bianca al cano La maga bianca Una è andata Ne manca un altro Finito Oh Perfetto Sono saliti Qualcuno è salito a livello 9 Chi? Eh Riku Guarda Neanche il tempo di fermarsi Oddio La lucetta La lucetta La prima cosa che si mene Infatti me la mette per primo Cazzo Mi sono dimenticata di fare Guarda Andavo Oh no Fai oggetti Pozione su Yuna Che adesso Oh Ma porca vacca Mi sono dimenticata Ma porca vacca Minchia Sono durata Moltissimo Ma devo rifare Quindi tutto il pezzo Del Scusate Sto dicendo Che devo rifare Tutta l'artigliatea Con Misaru Ma porca Va bene ragazzi Aspetta tornati Vedo se posso No Non posso No Non posso saltare Il film Ma te la che ci Fai freddo Si dice Niente Dunque Vi ribeccate La scena buffa Con Misaru Devo ribeccare Tutti i forzi Allora adesso Allora adesso Faccio una cosa Adesso ci vive Devo qualche Prendere tutto Allora adesso Mi prendo Tutti gli oggetti Di nuovo Saltiamo La scena Velocemente E poi Torno a salvare Lo pensavo Ragazzi Di beccare Un Trio Di mostri Così Tosto Vedo un attimo L'abilità Ma l'abilità Fuga Dove Cazzo Sta Ah Gambe Eccola C'è L'abilità Bandita Allora Sapete Che c'è Equipaggio Rico Con l'abilità Con la cosa Bandita Fatto Allora Devo ribeccare Tutta la scena Buffa Ragazzi Sì va bene Posso Allora Qui non si possono Saltare Non si possono Saltare Devo Fare Premere X Continuamente Vai Sì Adesso C'è Adesso Sentirete Le voci Saltare Perché Le clic Che ho Chi farà Vabbè Sì Poi dopo Musica Tipo Da panico Non posso Saltare Non posso Saltare Devo Devo aspettare Perché deve Arrivare Il momento Così Vabbè Sì Sì Lo so Lo so Lo so Lo so Isau Lo so Mi piace Troppo Come fa Ok Allora Ditemi Con questo modo Dici cosa Allora Sei tu Isaru Mi piaceva Anche il Q Dietco Non posso Perché Parla che non posso Mettere in pausa Il video Altrimenti Mi skipperai Di nuovo Sto filmato Vai Eccolo Che spona Adesso Finito Sto filmato Torno a salvare Poi Ehm 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 E poi Stavo dicendo Ehm Niente Ah sì E poi Torniamo Poi Andiamo Nella galleria Se vedo Il duo Bicard Bicard Non so Come cavolo Si chiama Gambe Ecco Revival Non posso Spettare Allora Sto filmato Non la voglio rivedere Con tutto il rispetto Perché comunque È una palla Rivedersi I filmati Quando già Li sei Allora Non niente Un secondo Va a salvare Un disc harp Un counties Un 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 Ho salvato, non lo rivedevo più prima, perché partiamo da questo punto. Aspetta che faccio, ho trovato la vita con gli anche a Yuna, perché sì, perché voglio rivelai, mostri, Dzeko, non vi temo, eccoli, se mi conviene, vai, farlo fuori, GAPIDE! Vai, vai sul gigante, vabbè, sul letto è bianco allora, vai che muoia, madonna, bastardo, l'incornata di merda, vai, adesso sei l'ultimo rimasto, ti faccio a pezzi, porca, Pam, mozione, perfetto, bello che si è curato nel mente che stava attaccando. Mancato! Beh, anche il forma bandita è cucita dentro, eh. Oh, morto! Ah, ma l'energia non gli dava vita a tutti, scusate, mi c'ho in mente come funzionale fare in fantasy 12, ok, mi dà vita a tutti, oddio, il behemoth, sento di potercela fare, se mi impegno. Schiva tutto! Non mi sembra lui invece una cima nel schivare. Ah, con Ryukyu dovrebbe approfittare per rubare qualcosa di nemici, vai, ruba! Ho rubato una cosa di fenice, dai, potrebbe avere ancora qualcos'altro, possono avere anche più ad oggetti i mostri. Non possedere nulla, ok, no, ok, niente. Voleva la pena provare. Questa questione mi dà un botto di punta esperienza secondo me se lo batto. Aia! Questa cura! Qui stiamo scendendo un po' troppo con i punti vita, pozioni, pozioni! No, non sono Yuna, sono scema! Pam! E il gigante battega! Saliamo! Solo Yuna deve salire ancora a livello 9, solo lei, tutte le altre due sono salite. Oh, ecco la sfera! Ma questo lo devo far fuori subito. Mi sto troppo sulle scatole. Poi quando ti ha l'ingonnata che ti fa fuori subito. Vai! Ho colpito il Gekko. Oh, è andato. Oh, è già qui. Ed ora l'ente bianco. Ho rubato un vento artico. Il vento, come si può rubare il vento? Boh, vabbè. Misteri di fare una fantasy. Beh, picchiate, picchiate. Blitza, taglia. Non mi fai niente! Non mi ha fatto niente! Oh, anche Yuna ha preso su parte a Gelum. Mi piacerebbe arrivare che tutte imparino l'abilità di questa... Uh! Eh, però è mezza rotta. Ho sbaglio. Eh, ovviamente non siamo sole. Chi c'è? Che faccio? Che dici di facciamolo secco? Vai! Minchia, che colpo critico che ha tirato Riku. Possiede qualcosa sto boss? Domanda. Che si chiama Guardiano. Ah, ho rubato un velermetico. Velermetico. Madonna, cura, presto qua. Anzi, qui passa a... La maga bianca. Va bene, va bene. Oh, vale. Che bella. La piuma. Che cade. E via! Maledizione! Aiuto! Eh, magia bianca. Boh, fai... No! Devo usare l'acqua santa! Acqua santa. O meno male che stava... Vai, preghiera un pochino. Oh, non è. No! Cavolo, ragazzi, oh! Cosa fa male di storia? Non me lo ricordo. Buono! Cosa fa male di storico...? Oh, Soo. Ok, ecco. Vavia un pochino apparao mangio. Cosa fa male di storico? Then I can get beat a this part of my strike! Cosa faSi! Cosa fa male di politica! Cosa fa male di Dud outdoor part si mai il travel. Maledizione ancora Eh non so cosa faccia Maledizione Ah ma aspetta ma che ci penso Ti impediva di usare Le mosse magiche mi sembra Ma come le fa usare Non mi ricordo cosa fa in questo gioco Non me lo ricordo Beh qui ho messo gli alti vis Così non c'è l'attacco Sto preparando qualcosa di forte Un'altra maledizione forse Sì Perché devo non capire cosa serve Maledizione Sto caricando qualcosa Ancora maledizione Poi suppongo Metti a fuoco qui Oh Esna Mi serve proprio Esna Vai Esna Su tutti Cioè su tutti Deve usarla Vediamo Esna si cura Esna dovrebbe curare La maledizione Infatti è curato Se prende tempo A lanciare Maledizione Qui Mi facciamo perdere Tempo Tirando Maledizioni Oddio Aia Porca puttana Cosa fa Magia O di tutta La squadra E poi Sistemare Tutto Veloce Sì Le Ce l'ho fatta Ancora il fotone Fotone di merda No Ma basta Cioè devo rifarmi Dopo Devo rifarmi Tutto Porca puttana Non pensarci Non ci provare Bastardo Cavoli Ragazzi È un casino La capuzione E via Ecco Adesso è morta Ico Qui caga Le finisco Tutte Tutte Gran pozione Su pain No Sto di nuovo Preparando La mossa finale Minicanata Vai Boh Che cazzo Ne so Cioè fa 200 Di danni Praticamente Scusami dai Posso Minicanata Pum No ha fatto un cazzo Vai Fa un po' di danni Siamo sopravvissuti Tutti Vabbè Usa trincea Proviamo trincea Dovabbè Ridurre gli attacchi Ragazzi Siamo comunque passati Sotto la La metà Perché se sta sparando Non inizia a spammare L'attacco finale Significa che siamo Sotto la metà Oh No non è andato Cazzo È andato No non è andato Pensavo fosse andato Perché ha detto Sì Non è andato Non è andato I fottuti HP I MP Scusami È andato Oh Adesso è andato Adesso è siglia È giusto Porca vacca Che gatta Il problema più chiaro È stato Che Riku Aveva meno punti vita Massimi Di 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 Quindi Quello Che dava Problemi Che per cosa Faceva l'attacco finale Guarda Non dire tutto qua Che ho speso Tutte Quasi tutte le cose Di Finicio Che c'avevo Devo Comprarmi Di accessori Per aumentare L'HP Eh già Vedai Magari Si vede qualcosa Ragazzi Ragazzi Livello 9 10 Beh Magari che niente Siamo tornati Con qualcosa Siamo tornati Ancora Ma bene Ma passano alla... Oh, Kilika! Ancora ha difficoltà a quattro stelle. Sfera Romania, Kilika. Kilika c'è una battaglia in corso per giudicarsi alla famigliata. Super Sfera. Ehi, Gabriela, tutto gas! Cioè, non posso fare neanche una pausa, fantastico. At the time, everyone was grateful, but lately, well, there have been signs of trouble. It seems that tension is building between the Youth League and the New Yelen. Bene, ragazzi, di allora che il video di oggi si possa concludere qui. La prossima volta vedremo di esplorare il porto di Kilika che sembra essere ritornato a Comea prima della tragedia avvenuta nell'1, si intende. Quindi, più che altro, la cosa che mi interessa è che voglio trovare in questo mercante per comprami degli accessori per le nostre caccia sfere. Perché c'è, ad esempio, Riku che necessita di un aumento di punti vita. Allora, vedo però volentieri che da Guerre ha molti più vita del solito. Però io vorrei tenerela come maga bianca. Quindi magari trovo un accessorio che le aumenti i punti vita. Ma vorrei in realtà trovare un qualcosa che aumenti i punti vita di tutte. Quindi magari, insomma, prendo lo stesso accessorio per tutte e tre e così ci sistemiamo. In questa maniera. Ma no, aspetta, no, aspetta. Sono passata per sbaglio a, ecco, a fratello che risulta che agli alleati che però non metterò mai in squadra. Va bene, ragazzi, se vi è piaciuto il mio raccomando, lasciate un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare con i miei video. E noi ci vediamo alla prossima con guida telecamera che non riesce a mettere a fuoco.